Ciao ragazzi, Patrick ha abbandonato l'ospedale, eccolo. Finalmente dopo un mese, giusto esatto un mese, mi hanno dimesso e sono arci contento di poter tornare a casa. Avrò le mie comodità ma dovrò osservare un periodo di due settimane ancora di riposo assoluto. Sono in una fase debole di delicatezza perché la polmonite che ho avuto era piccaterale ed era forte e spero di poter continuare tranquillamente in scioltezza in questo periodo. Ringrazio tutti ma ci vedremo dopo questo periodo sicuramente. Grazie ragazzi, ciao a presto. Ciao a tutti, Patrick vi saluta e ringrazio a tutti per l'energia che gli avete mandato e le preghiere. Grazie. Ciao.